Come è il professionista dedicato alla coccola, alla cura delle persone a tavola? Abbiamo da un po' di tempo a questa parte che appena veniamo accolti nel ristorante qualcuno ci porta il piattino del pane con l'olio abbinato e ci dà una spiegazione delle cultivar, delle tecniche di estrazione e soprattutto del profilo organolettico. Quindi crediamo veramente che possa essere una svolta significativa per divulgare maggiormente questo prodotto fondamentale per la nostra economia agricola. Forse non tutti i sommelier saranno contenti visto che dovranno quindi prepararsi ulteriormente, fare dei corsi, come si istruisce un sommelier abituato appunto a confrontarsi con il vino a conoscere l'olio? Già nei nostri corsi abbiamo delle lezioni dedicate all'enogastronomia, soprattutto il terzo livello, quindi la parte finale, quella dove si parla di abbinamento, è dedicata interamente all'approccio sensoriale del cibo. Quindi è un piccolo sforzo in più di conoscenza che però ci ripaga ampiamente con la soddisfazione del cliente.